Siamo pazzi e siamo per andare a fare una reaction che da una vita che non facciamo e ce le chiedete in tanti Del video brufoli classifica mondiale di tutti i tempi del mega brufolo Allora, è l'una e mezza e noi abbiamo mangiato e adesso ci guardiamo questa cosa qua Quindi non è detto che non possa vomitare nei suoi capelli per esempio C'è una compilation dei peggiori brufoli e voi la vedrete qua Che schifo E 1, 2, 3, VIA! Allora, vediamo un po' Al terzo posto Perché gli metti un uovo nell'orecchio? Per avere l'appoggio È proprio un uovo Come si fa ad avere un brufolo dietro all'orecchio poi? Perché fa quell'effetto? Ma cosa li sta tirando? No, lo sta bucando per farlo uscire Ma il maionese No, 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 non riesco Nooo Ma lì ci riempi 16 pacchetti di patatine Hai visto? No, non l'ho visto C'è schizzato, ma non faccio C'è schizzato C'è schizzato Il colletto di sbumba Ma con le mani nude Ma perché ride? Ma perché ride? Che c'ha un orecchino di sbrata Cioè L'ho data in bocca Basta, spreme, non riesce il cervello Secondo posto Però mega brufolo Ma perché l'altro cos'era? Un pidocchietto Che parte è? Ma dov'è? Sulla pancia No Sulla schiena Alla schiena Ma che schiena di merdato onda? Eh beh, è curvo Ah Mettetevi i guanti No, le schizze in faccia Lo sento Lascia Perché c'è gente che gode nel vedere questi video? Si fa le rap Ma è una testa di un bambino Ma quanto devi aspettare per poi arrivare a sti livelli? Passiamo un po', tanto gridano solamente Sai cosa sembrano i chewing gum quando gli spiaccichi da qualche parte sotto i banchi? Oddio che schifo Ma è la schiena, sai che non riesco a capire? Ma che parte del corpo ha sto qua? Cos'è quella roba lì? Dai leva quel chewing gum Dai leva quel chewing gum E' gare E' gare Ma è solito E' solito Lo sto prendendo con le mani E' solito E' un cazzo Ma è un buco del culo? Oh 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 E' al primo posto e io ora sbocco eh Bomba nucleare Questa schizza Non lo sento Minchia Ma col bisturi Addirittura E' un bambino C'è Ma non si vede Ma questo non c'è niente Si è messo qualcosa Si è messo qualcosa Ho messo tipo un'onda di catarro Perché ci hanno messo il sacco della spazzatura? Si che è un po' una rumenta Come ho fatto a sapere che era un brufolo quello? Scusa Non sembra Si infatti Sembra solo un ingonfiamente e basta Probabilmente tutta la schiena ha un brufolo Ma così esce fuori Dai muovettemi Comunque potrebbero fare la fabbrica della maionese queste Che schifo Immagina che puzza che avrà Ma continua Ma è solito anche questo? Oddio povero ragazzo Lo stanno martoriando A parte che gli hanno fatto un buco Che ci sembra tipo Ma si vede che devo stare da fuori Ma si vede che devo stare da fuori Ma cosa sta facendo con la macchina? Ma queste sono le favelas Dai Ma glielo tiro via con la punta del cutter Non l'ho vista come c'era Oddio 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 Ma doveuate qualcuno troppo Ma perché ridono? che professione maturity c'è Oh Oh! Jeremy just tiede a sale. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!